Se si chiama terra dei centenari, è merito loro. Cresciuti con l'entusiasmo dei bambini, facendo mestieri da grandi, consumando le mani e la schiena per fare cose buone, piegati come alberi che proteggono i frutti dal vento, dando tutto alla famiglia per un po' di serenità come ricompensa. Invece il mondo si è capovolto. È ora che gli abbracci sono armi. Tocca a noi, difendere il tempo più prezioso, quello che ci rimane con loro. Oggi l'amore è stare lontani, per stare più vicini, domani.